benvenuti al meteo la bassa pressione proveniente dall'alaska si sposta al nord della campagna mentre l'alta pressione proveniente dall'africa si sposta su a nord troveremo nuvoloso con neve e anche pioggia più al centro mentre a sud troviamo poco nuvoloso più a sud sereno la temperatura massima è stata registrata più a sud 27 gradi la più alta nord e 9 gradi mari e venti i venti saranno moderati in tutta la campagna ed i mari saranno agitati il sole sorgerà alle 6 e 30 e invece tramonterà alle 17 e 47 ciao